Potremmo usare la gordura di palma in un gelato? Sì, sì, perché la gente precisa di gordura, e ademais la gordura di palma dà un'ottima struttura al sorveggio. Agora, il problema, Ivone, è una questione di marketing, no? Potremmo usare, sì, normalmente si usa in sorveggio di baixa qualità per il suo basso custo. Sono gordura con un punto di diffusione molto elevato, che cubre un po' il sabore. Potremmo usare? Sì, io non ho consiglio, non so, per una questione di marketing, ma anche per una questione che cubre il sabore per il suo alto punto di diffusione.